A presto, a presto, a presto, a presto. Contro Pollone, Pollone viene sempre bene, Marx per lo aggira, un tiro incredibile Carboni si va poi da Marx, cambio accettato da Candussi, Marx, tiro da... E poi per Marx, giudice Mastellari, Marx gira il tiro di quest'ultimo e sono due punti Sono le lunghezze da recuperare 59-57, solo due punti sui 10 che aveva Rimini, poi c'è Marx che tira da tre punti Marx gira la palla alla squadra di Ferrari, guarda, addirittura Pasquale su Marx, Pasquale tiene per... E nel momento in cui il giocatore è libero è giusto anche che... D'altra parte, Marx sulla scala... ... nel gioco, buona la pressione di Reggio, Marx contro chi lo può giocare con la sua velocità, crossover, tiro da due punti, gran canestro... Tomasini esce forte, Alibegovic su Marx, vuole l'uno contro uno, ci prova con lo step back in laterale, da tre canestroni... ... che prova a liberarsi per ricevere, adesso con questa rimessa si butta dentro... ... come può fare male con... con questo fondamentale, oltre a essere anche una squadra molto molto fisica ma... Assolutamente, Alibegovic è risulta in una situazione un po' complicata con il passaggio... ... un bel tap out che favorisce Marx, trovato a... ... Nuba! Aspetta Marx su di lui, del nostro blocco di Justin Johnson, Marx ballezzo, arresto, tiro... ... come sempre il Flaminio, anche questa sera, gremito per usare un eufemismo... ... Marx dall'altra parte... Marx colto di lui, c'è Verdi, balleggio, scarica ancora nell'angolo al rotto, Scarbone... ... per Davide Bruttini in casa 100, Marx con 12 secondi, si crea spazio per la trifla... ... Fornero, Ferrero scusate che sbaglia, trovato poi dall'altra parte... ... Marx, pallone al vetro e si rimane in parità... ... dall'altra parte, Marx, palla per... ... poi sono undici, quelli dei compagni, di chi sente a 23, ancora Marx che sente la mano calda... ... purtroppo sconfitti da Nardò... ... in campo, per anche per Rivi di numero 27, Alessandro Simoni, Marx... ... ha lasciato il parrucchè anzitempo nel primo quarto, in virtù dei due falli commessi in avvio... ... alla sotto a cercare... ... torna da Marx, adesso c'è Toscano su di lui... ... che effettua una bella difesa, Marx però ci prova lo stesso... ... per Rivi, ora i ritmi sono abbastanza alzati, da una parte dall'alba, Marx è da canestro... ... e con... ... Marx... ... fuori per Justin Johnson, numero 23, sbagliato il... ... per l'ufficialista come numero 5, qui in dentro piccolissimo per Rimini... ... Marx, tiro difficile... ... primo tempo... ... e vediamo Rimini in questo attacco, c'è un po' di spazio per Marx... ... attacca Marx, il taglio per Anumbare, Vers... ... con quest'azione personale che però poi... ... forse era meglio muovere un po' di più il pallone... ... Marx, uno contro uno, jump shoot... ... il tiro dai... ... primi tre minuti di serata, 40-34... ... quando siamo entrati negli ultimi due minuti di questo quarto... ... si butta dentro Marx... ... dentro per Justin Johnson... ... distanza, Pietro Aradori... ... per Stefano Masciadri... ... la palla ancora per Marx che vuole alzarsi da tre punti... ... dopo due minuti e mezzo... ... attacca adesso Marx... ... Alivegovic lo contesta... ... gran palla per Simeone... ... che segna un otto il parquet... ... Johnson vuole in posto il numero due... ... tiro di Bici... ... a pulire 44... ... a 51... ... buona conclusione... ... il tiro è sbagliato, è andato sul ferro... ... infine il palleggio di Marx... ... ancora il tiro di Simeone... ... i pioni dal treno... ... comunque la squadra di Martino in defesa... ... con Marx... ... ancora il flop per l'ex editatore di centro... ... al resto il tiro in lunetta... ... analogo a quello di... ... attenzione... ... sfugge ancora la palla dalle mani di Grande... ... per la seconda volta persecutiva... ... ma Rimini comunque la tiene... ... Marx... ... tiro difficilissimo... ... poi si allarga... ... inesorabilmente... ... vediamo... ... Grande che trova bene... ... Max palla... ... dentro... ... trova libera se la defenda di Nonzelli... ... ora... ... conclusione personale per Marx... ... che bravo... ... a prendersi... ... di nuovo Marx... ... trova tutto al centro... ... arresto il tiro di Marx... ... da due punti... ... palleggio... ... arresto... ... tiro... ... la palla... ... incredibilmente di ritorno... ... trovato Marx... ... palla per... ... Johnson... ... io... ... opterei... ... per la classica zona bulgara... ... per vedere cosa succede... ... capitano... ... ehm... ... De Angeli... ... che dopo un primo errore... ... devo dire abbastanza banale... ... se va a segno... ... un tiro libero in più... ... e qualche tiro da due in più... ... avrebbe... ... passato un po' più di equilibrio... ... nella gara... ... invece... ... adesso... ... molto importante... ... per la linea... ... ma... ... il ruolo... ... che vuole... ... trovare... ... il compagno sotto... ... fa ancora lui... ... la scampia con Johnson... ... Johnson in proiezione a Caneto... ... ancora... ... per Marx... ... blocco di Johnson... ... Marx vuole giocarlo a lui... ... 6 secondi allo scadere di 24... ... il ruolo...